Guardate dove stiamo, Clifford Mother, questa è una torre di avvistamento fatta costruire da Napoleone e noi siamo a due metri dall'Atlantico. Abbiamo scalcato qualche cancello, però mi abbazza la pena. La potenza della patata, l'avvistamento della patata, l'avvistamento della patata. Impressionante! Qui non andiamo a costa, però la patata, insomma, è meglio andarci lì. Ma che salitazione è veramente troppa. Ciao a tutti!